Wow! Grandi! Signori, interi spettatori, amici della Mazzone! Tana! La fatica della Sinsa! Dov'è! Farò vedere la patrota! Adesso, come tanto, direttamente da una volta, siamo molto cari che potrebbero vedere pure a pochi denti! Così? Adesso lo scontarlo a 4,6,2,3,14 Formazione Delta e numero 1 Capitano Simo Pirete Opili ... 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